Il calendario di Serie D Girone F tocca la settima giornata di ritorno e al Savini di Notaresco arriva la capolista Campobasso. I Lupi, con due lunghezze in più rispetto ai Teramani, vengono da un periodo non troppo positivo. Notaresco invece col morale alle stelle, soprattutto considerando l'opportunità di giocarsi l'eventuale sorpasso proprio tra le mura amiche. Gara stracolma di ex, tutti sulla sponda molisana, Fabriani e Dalmazzi tra i difensori, Bontai Candellori in mediana, il direttore sportivo Stefano De Angelis e, soprattutto, Mirko Cudini in panca. Insomma, per molti un déjà vu, per altri l'occasione di scrivere, forse non in modo definitivo, una pagina importante di questa stagione. Epifani senza Colombatti e Marcelli, Cudini che spera nella vena di Cogliati, sette le reti del bomber milanese negli ultimi due match con i lotariani. Fischia, Mucera di Palermo, giudice di Frosinone e Piccichè di Trapani a sbandierare. Il Campobasso parte decisamente meglio, tant'è che attorno al decimo Fabriani testa la concentrazione di Sciba. Il numero uno c'è e blocca centralmente, ma nulla può due minuti più tardi quando, sulla folata dei lupi, Vitali prende la mira e trova un gran gol. Al sedicesimo, brutta entrata di Dalmazzi su Bianciardi. Mucera non fischia e non sanziona. Purtroppo, per il quattro del notaresco, l'infortunio è grave, con l'ambulanza costretta ad entrare in campo, in bocca al lupo. Palumbo prende il suo posto. Al ventisettesimo, il solito Vitali penetra in area, Simoncini l'aggancia e Mucera fischia il rigore. Bomber cogliati non sbaglia e il Campobasso va sul doppio vantaggio. Il notaresco non molla e due minuti dopo la mezz'ora accorcia. Banegas sventaglia a sinistra, Marchionni supera Vanzant e mette al centro. Olcese la tocca di giustezza e fa esplodere l'esultanza del notaresco. Fino al duplice fischio nulla più accade, gara che vive di tante emozioni, ma di certo quella dolorosa dell'infortunio a Bianciardi ha fatto salire la tensione alle stelle. Ad inizio ripresa, Speranza perde un pallone davanti la propria area. Cogliati ne approfitta, ma Super Shiba dice no. Sulla ribattuta Vitali si divora il 3-1 mandando sul palo. Quindicesimo, ancora Campobasso, Cogliati, vero spauracchio si defila e scaglia il destro. La palla lambisce il palo e va sul fondo. Venticinquesimo, Palumbo lotta dopo corner e trova lo spazio per il mancino. Il tiro va out di pochissimo con Raccichini fermo. Dal trentasettesimo al trentottesimo il Campobasso spreca due volte. Su una ripartenza da corner, Radu si fa tutto il campo e calcia. Lo stesso palo di Vitali dice no e poi Bontà sfiora l'altro palo. Poco dopo, cross perfetto per il neoentrato di Domenico Antonio, che si trova un Super Shiba che manda in corner. Il Notaresco non ha più la forza, il Campobasso si placa per evitare la beffa dopo le enormi occasioni sprecate. I lupi allungano a più 5, ma Notaresco che sicuramente non mollerà la presa. I lupi allungano a più 5, ma Notaresco non ha più la forza.